Isola dei famosi 13, Belen Rodriguez mostra il suo interesse con un gesto L'inviato di questi Isola è una persona amata e apprezzata tantissimo dal pubblico, Cancelletto Stefano De Martino. Il ballerino di Amici si è tuffato in questa bellissima esperienza, mettendo in pausa Amici di Maria De Filippi. . In molti hanno pensato che quest'esperienza possa far bene al napoletano per prendere le distanze definitive dall'immagine della sua ex moglie Cancelletto Belen Rodriguez. Il pubblico da casa e i social web hanno dimostrato un enorme interesse per l'esperienza di Stefano, soprattutto per eventuale reazione di Belen. Come avrà reagito l'Argentina? Belen e la nuova dimora. Lunedì 22 gennaio Belen e il suo piccolo Santiago erano a casa dinanzi al televisore a seguire l'Isola su Canale 5. Questo non perché Belen si è interessata all'ex marito, ma per far vedere il papà al suo Santi. Infatti la relazione di Belen con Andrea Ia non ne sembra più solida che mai, a discapito di chi la pensasse diversamente, tanto che la coppia ha preso una decisione importante. La coppia si è lasciata la crisi alle spalle con un'importante decisione, la convivenza. Infatti l'Argentina ha sempre messo le cose in chiaro con il motociclista per quanto concerne il tema matrimonio. Questa infatti ha chiarito la sua volontà di non affrettare le cose e di non risposarsi, dato che di recente ne aveva già chiuso uno. Ciò però non è l'avvincolata dal fare un altro passo avanti. I due hanno deciso di andare a convivere insieme e di prendere una casa a Lugano. Video, il settimanale che il 24 gennaio annuncerà la notizia e le foto della casa acquistata. Una casa che ha tutti i confort richiesti dalla coppia e che esprime la voglia di essere una famiglia come tante altre. Belen però è pensierosa per il piccolo Santiago che ha appena iniziato la scuola americana a Milano, nonostante ne abbia già vista una per il figlio anche a Lugano. Per la showgirl la priorità è il piccolo Santiago, perciò la certezza di un trasferimento stabile nonché ancora. Stefano De Martino sarà d'accordo? Video. Stefano e la sua nuova relazione. D'altro canto Stefano sembra essere rinato dapprima di partire per le Honduras. Nello studio della Toffanina ha dichiarato che la persona che gli mancherà di più sarà suo figlio Santiago, con il quale ha instaurato un bellissimo rapporto. . Ciò nonostante il cuore di Stefano è pronto per accogliere una relazione nella sua vita. È già arrivata la fiamma che scalderà il cuore di Stefano, Gilda Ambrosio. . Lui, la fashion blogger e il piccolo Santiago, in attesa della partenza di Stefano per l'isola hanno trascorso le vacanze di Natale tutti insieme sulla neve a Sanct Moritz. .